Esiste in Italia un partito politico che si mette alla prova e organizza le primarie per cercare di intercettare la volontà dei cittadini e degli elettori, altri non lo fanno e quindi questo è sicuramente l'aspetto positivo. Per quanto riguarda invece le considerazioni sui risultati e sulla partecipazione, io ritengo che vada evidenziato un aspetto, si è confermata ancora una volta una fase di grande difficoltà del quadro politico italiano e anche una disaffezione che viene certe volte sminuita ma va tenuta in considerazione. La partecipazione alle primarie per la riconferma e il ritorno di Renzi sonoramente bocciato dal referendum non ha trovato il riscontro tra i cittadini che magari poteva aspettarsi o che qualcuno parlando di più di 2 milioni di elettori che si sono ridotti a 1,8 e adesso scendono sotto 1,8 non è sicuramente un grande dato. Basta ricordare che Renzi nella tornata precedente aveva visto la partecipazione al 2013 2 milioni e 800 mila elettori, per non parlare di quelli che avevano sostenuto in precedenza Bersani che erano più di 3 milioni, Veltroni, Prodi eccetera. Quindi questo fatto deve far riflettere il Partito Democratico. A questo poi si aggiungono delle considerazioni di carattere più regionale o locale che lasciano particolarmente perplessi. Ora io nell'arco di questi anni devo ricordare a me stesso, oltre alla segreteria del Partito Democratico, che non perde occasione per simpaticamente valutare i risultati. Abbiamo partecipato sia io che tanti amici socialisti o di liste civiche a tutte le elezioni primarie che ci sono stati in Ostuni e non solo in Ostuni, sia per individuare i candidati al Parlamento e quindi abbiamo sostenuto per esempio la candidatura di Tomaselli, il senatore Tomaselli nella nostra città e non solo. Abbiamo sostenuto perché frutto di un accordo politico tra Nencini e Bersani, la candidatura di Bersani quale candidato premier e segretario del Partito Democratico, potrei fare un elenco lunghissimo, tra l'altro conservo personalmente l'elenco degli elettori alle primarie che si sono svolte in Ostuni con tutti quelli che hanno partecipato. Ora, l'avere in questa occasione, io sono convinto, e questa è la cosa che veramente non mi infastidisce, veramente mi mortifica per il livello basso di democrazia che caratterizza queste persone. Se fossi andato, premesso ci tengo a chiarire, non sono andato a chiedere di votare proprio perché per evitare storie e per evitare rotte di collisione che non mi avrebbero, diciamo, garantito in ordine anche all'esito di questo confronto. Non sono andato a chiederlo, ma sono allibito perché hanno impedito a consiglieri comunali, da sempre schierati con il centrosinistra, che hanno sempre sostenuto i candidati, hanno votato per il Partito Democratico, per eleggere consigliere regionale Giovanni Epifani, per eleggere senatore Tomaselli. Quindi è solo vergognoso questo nascondersi dietro norme e regole che tra l'altro sono anche contro, hanno messo a punto dei regolamenti che sono contro la dottrina e la giurisprudenza conforme e consolidata. Hanno annullato una cinquantina di voti a Emiliano perché erano votate più liste di Emiliano. La volontà dell'elettore che è sancito dal Consiglio di Stato e da tutte le norme che disciplinano sia quelle regionali che nazionali che dicono che quando c'è un voto tutto di una lista o di un candidato facente parte di uno schieramento va interpretato e va dato il voto sicuramente al candidato sindaco o presidente o segretario nel caso di specie, la dice lunga sul livello di democrazia e di ricerca, di partecipazione che gli amici EPD vogliono per le investiture popolari. Si sono nascosti dietro una norma che è superata abbondantemente da un'altra norma generale che dice che possono votare gli elettori che condividono un programma ed un progetto del partito o di centrosinistra. Poi l'altra cosa che io chiedo perché sono disorientato su questo, ma chi sono quelli che si oppongono al partito democratico? Chi sono le forze politiche e i movimenti che si oppongono al partito democratico? Mi risulta che i socialisti a livello nazionale sono addirittura stati eletti nelle liste del partito democratico, che il sottoscritto ed altri che hanno votato altrove, sono stato addirittura candidato nella lista Emiliano Sindaco di Puglia, che era il segretario regionale del partito democratico, che è il presidente della regione Puglia ed era candidato segretario del partito democratico. Ora, le reazioni che io ho visto in questi rappresentanti del partito democratico, non solo devo dire quelli di Ostuni, anche se in alcuni comuni hanno votato consiglieri di altri movimenti civici o liste, in altri no. Una forza politica come il partito democratico, che è ad Ostuni, è organicamente alleata, organicamente alleata in amministrazione, in maggioranza, con Fratelli d'Italia, Italia Tricolore, Direzione Italia, eccetera, eccetera. Si permette il lusso di poter fare analisi del sangue con reagenti chimici di ultima generazione, ma di basso livello, che si vede si vendono in qualche mercato di periferia, per fare l'analisi del sangue a amici, compagni che sono da sempre schierati nel centro-sinistra e che hanno da sempre sostenuto le battaglie del centro-sinistra. Io penso che loro abbiano bisogno di un lungo percorso di riabilitazione politica e la cosa che mi ha preoccupato è anche la reazione di qualche rappresentante, di alto rappresentante istituzionale, che evidentemente scosso dal risultato delle primarie non ha compreso fino in fondo la portata delle sue dichiarazioni e soprattutto le conseguenze politiche di un comportamento e di un atteggiamento che è a dir poco puerile. Alla segreteria del PD io dico che ormai piene le scatole delle considerazioni di questi amici che non guardandosi allo specchio per come si muovono e si organizzano sul territorio e non hanno la capacità di vedere le travi che albergano nei loro occhi, vanno a vedere sempre le pagliuzze in quelle degli altri. Mi dispiace che non prendano atto che la democrazia preveda la libera partecipazione e un risultato elettorale fatto per sostenere le ragioni e la candidatura di Michele Emiliano. Io sono convinto, conoscendo i miei interlocutori della segreteria del PD di Ustuni, che se i nostri amici e i sostenitori di Emiliano si fossero recati alle urne per votare a Renzi o Orlando avrebbero interpretato le norme in maniera più larga e più estensiva. Cari amici, così voi non solo non costruirete mai il centro-sinistra, ma continuerete ad aumentare la distanza che vi separa giorno per giorno dai cittadini liberi, democratici, che sanno apprezzare i vostri comportamenti per l'assoluta incapacità di confrontarsi e di comprendere quello che sta accadendo nella società. Potete rinchiudervi all'interno dei vostri mille che sono venuti a votare, perché tanti sarebbero stati quelli del PD. Mettetevi però d'accordo con voi stessi, con quelli che hanno dichiarato che una minima parte erano del PD e tutti gli altri chissà da dove venissero. Noi abbiamo una storia, una tradizione di libertà, di democrazia, di partecipazione. Lo facciamo condividendo progetti, condividendo la ricerca di un blocco sociale intorno al quale costruire la governance delle nostre comunità. Voi avete solamente distrutto, vulnerato, ferito a morte una tradizione ed una storia di centro-sinistra che ha visto Ostuni, protagonisti Lorenzo Cirasino, Domenico Tanzarella e tanti altri. Adesso avete la responsabilità pesante sulle vostre spalle di avere distrutto questo progetto e di non essere assolutamente in grado di costruirne un altro. Ma siccome esiste sempre un tribunale del popolo che è molto più giusto e molto più attento di tutti i tribunali, sia quelli penali, sia quelli civili che quelli amministrativi, troverete conforto in questo e sarete diciamo bocciato dal giudizio del popolo perché solo il popolo sa come vengono trattati i traditori, i vigliacchi e coloro i quali non rispondono ai principi più sacrosanti della lealtà, della correttezza e della democrazia. Faccio i migliori auguri naturalmente, augurandomi che prima di tutto Renzi faccia tesoro degli errori passati. Non penso i primi messaggi non sono in questa direzione. Vorrei dire che potrà essere il numero uno e il numero zero del Partito Democratico, ma difficilmente sarà in grado di guidare una nazione, di risollevarla e di portarla verso traguardi che tutti ci auspicheremo. Però il tempo è galantuomo e lo verificheremo. Aspettiamo anche che siano in grado di fare una legge elettorale per poter dare ai cittadini italiani la possibilità concreta di potersi scegliere un governo, uno schieramento, un progetto politico. Ma se si parte dall'autosufficienza del Partito Democratico è bene che ogni volta di più votino elettori di meno per le loro primarie. Grazie e io non sono convinto, non ho capito nemmeno a quali aperture si riferisse la segreteria del Partito Democratico negli ultimi giorni, a meno che non si riferissero al fatto che hanno votato ancora una volta per la quarta volta il bilancio della giunta di destra sostenuta dal Partito Democratico. Complimenti per questo impegno profuso, per il bene della città e per il bene comune, che è il light motive, il filo conduttore della segreteria del Partito Democratico. Evidentemente caratterizzata da obnubilamento e da offuscamento politico che non riesce a traguardare il domani e il dopodomani. D'altra parte Renzi ha detto che si vuole alleare con Berlusconi, quindi va benissimo la direzione intrapresa.